Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. La terribile notizia è arrivata pochi minuti fa, dopo 20 giorni di ricerche purtroppo il triste ritrovo. È stato trovato morto poco fa, i colleghi di lavoro sono sotto shock. È stato ritrovato senza vita, sul ciglio di una strada che attraversa la zona industriale di Marghera, il 64enne Roberto Barbiero. Conosciuto da tutti come Willy, di cui si era persa ogni traccia lo scorso 21 dicembre. Residente nel quartiere Bissuola di Mestre, da circa 30 anni lavorava come dipendente al centro di smistamento delle poste di tessera. In tutti questi anni non era mai successo rimanesse assente da lavoro un solo giorno senza presentare una giustificazione. È stata proprio questa sua assenza ad aver allarmato i colleghi di lavoro, i quali, sapendo che l'uomo viveva solo da tempo e non aveva famiglia, hanno subito avvisato le forze dell'ordine affinché si mettessero sulle sue tracce. Che la causa della sua morte possa essere stata una rapina è ormai una pista esclusa. Dai primi accertamenti sul suo corpo non sono stati individuati segni di violenza. Inoltre nel portafoglio che teneva in tasca sono stati rinvenuti circa 800 euro. Ad aver ritrovato il corpo lungo via della pila è stato un'automobilista che subito lo ha segnalato alle forze dell'ordine le quali, dopo averlo identificato, hanno informato il magistrato che ha richiesto l'intervento del medico legale e della polizia scientifica.